L'amministrazione comunale di Caltagirone, nell'ambito degli interventi previsti sul fronte della valorizzazione e del contestuale rilancio della frazione di Santo Pietro, ha emanato due bandi, in virtù della quale mira ad ottimizzare il patrimonio ambientale, le strutture esistenti e i fini dell'incremento del turismo naturalistico. Ad illustrare le finalità dei bandi è l'assessore al patrimonio Antonio Montemagno. L'amministrazione comunale ha voglia di rilanciare la nostra frazione di Santo Pietro che è polmone verde del nostro territorio e noi abbiamo voglia di puntare su Santo Pietro, infatti l'amministrazione ha appena emanato due bandi per la gestione di due immobili e per un terreno incontrato da Piano Chiesa, atto a ospitare attività sportive, ludico, associazionismo, perché vogliamo che Santo Pietro possa ritornare ai vecchi splendori o comunque abbracciare quella parte di turismo e le famiglie cartagionesi che la domenica vogliono trovare un po' di ristoro nel nostro bosco. I bandi riguardano l'affidamento e la locazione di due immobili di Via degli Achei da destinare agli insediamenti di attività anche economiche finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del borgo di Santo Pietro, oltre al potenziamento dei servizi ad essa connessa. Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è il prossimo 15 giugno.